ben ritrovati di nuovo su review you vado a recensire insieme a voi un pullover in pile mimetico militare in questo caso verde oliva una fantasia diciamo di verdi e devo dire che sono rimasto soddisfatto e per questo motivo vi lascio anche il link del prodotto in descrizione per alcuni aspetti innanzitutto il prezzo 13 euro veramente una cifra bassa e poi la qualità del prodotto guardate la stoffa pile non è per niente leggera e spessa addirittura faccio un doppio strato poi tra l'altro ci sono anche diversi colori grigio mimetico militare verde bianco e ci sono anche diverse taglie io ho scelto la s in questo caso sono alto un metro e 70 61 kg quindi diciamo una corporatura normale nella media devo dire che questa taglia s mi sta veramente a pennello avevo paura comprando su amazon comunque online si sa le taglie sono magari diverse da quelle che vengono descritte quanti di voi scrivetelo quindi i commenti in passato magari avevate comprato un pullover una maglia o qualcosa di simile di una certa taglia e vi arrivava un troppo grande o troppo piccola invece in questo caso taglia corrisponde perfettamente almeno nel mio caso la lunghezza delle maniche è perfetta qua c'è anche l'elastico e devo dire che in generale mi calza veramente a pennello faccio vedere un po' però da vicino il materiale di cuciture che sono ben fatte l'ho tenuto sopra l'ho indossato ad circa due orette prima anche per fare dei lavori al di fuori di casa mia e devo dire che mi ha tenuto veramente caldo ideale secondo me per chi va a sciare pescare io l'ho acquistato essenzialmente per andare a sciare in questo periodo ma anche per la pesca morate inoltre la taschina con la doppia zip dove come vedete una tasca unica inserisco la mano esce di qua e comunque guardate anche la zip del colletto che vi permette di stare al caldo e di regolare comunque l'apertura o meno se avete domande non esitate a pormele link del prodotto in descrizione di amazon ci vediamo la prossima review